numero 4 è perfetta per i principianti ma anche per i ciclisti più esperti che vogliono una bici affidabile e resistente il telaio in alluminio le ruote da 27,5 pollici e la forcella ammortizzata rendono questa bici perfetta per affrontare qualsiasi tipo di terreno dai sentieri più semplici alle discese più impegnative anche l'ergonomia è curata nei minimi dettagli con una sella comoda e un manubrio regolabile inoltre il cambio shimano a 21 velocità garantisce una guida fluida e senza problemi in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 3 questa mountain bike è perfetta sia per affrontare percorsi fuoristrada impegnativi grazie alla sua grande stabilità e resistenza sia per godersi delle piacevoli pedalate in città i freni a disco idraulici offrono un'ottima frenata mentre la sospensione posteriore permette di affrontare anche i terreni più accidentati con facilità inoltre i cambi shimano sono precisi e fluidi rendendo la guida ancora più piacevole tutti questi dettagli la rendono una bici versatile e adatta a qualsiasi tipo di ciclista dal principiante all'esperto puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 le sospensioni sono ottime e ti faranno sentire come se stessi volando inoltre è dotata di freni a disco idraulici che ti offriranno una grande sicurezza in ogni situazione non c'è dubbio che questa mountain bike sia una scelta eccellente per gli appassionati di avventure all'aria aperta che cercano prestazioni elevate non solo è perfetta per i percorsi di montagna ma si adatta anche alle strade cittadine se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 grazie alla sua trasmissione shimano a 21 velocità potrai affrontare ogni tipo di percorso in modo fluido e senza sforzi eccessivi anche gli pneumatici a tutta prova su tutti i terreni aggiungono un tocco di sicurezza in più alla mountain bike inoltre il prezzo è vantaggioso e alla portata di tutti gli appassionati di ciclismo questa mountain bike con design sportivo conquista tutti gli occhi con la sua linea accattivante e armonica ma non è solo una questione di bellezza poiché la qualità non manca di certo in questo prodotto se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!